In studio Viviana Sannini. Buonasera, ben trovati a MTG. La procura di Ragusa ha disposto l'autopsia sul corpo di Veronica Ferrera. La 38enne è morta ieri nel primo pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Polo II di Ragusa, accompagnata da un uomo che poi si è dato alla fuga. La 38enne era ospite di una casa di cura nella zona alta di Ragusa, da almeno 15 giorni fa aveva fatto perdere le sue tracce, si era allontanata da questa casa di cura e ieri è arrivata in condizioni critiche all'ospedale Giovanni Polo II dove poi è deceduta. Dunque per capire meglio le cause del decesso la procura anche su richiesta dell'ASP di Ragusa ha disposto l'autopsia. Vediamo tutti i dettagli in questo servizio. Era sparita 15 giorni fa da una casa di cura di Ragusa, poi ieri intorno alle 14.30 è arrivata accompagnata da un uomo al pronto soccorso del Giovanni Polo II di Ragusa in fin di vita. Nonostante le manovre e il massaggio cardiaco ha cessato di battere il cuore della 38enne Veronica Ferrera. Sarà l'autopsia disposta dalla procura anche su richiesta dell'ASP 7 a fare chiarezza sulle cause della morte della giovane che era in cura per problemi psichici. Si era allontanata volontariamente dalla casa di cura in cui era ospite insieme con un fratello, mentre il secondo congiunto è in una struttura modica. Dell'uomo che l'ha accompagnata si sono perse le tracce, ma carabinieri e polizia lo hanno identificato anche grazie alle telecamere di biosorveglianza vicino all'ospedale. L'uomo può dare informazioni utili sugli ultimi istanti di vita della 38enne, il cui nome era già stato registrato altre volte nel database del reparto di emergenza e urgenza del Giovanni Paolo II. Dalle prime evidenze non risulta che la donna sia stata vittima di violenza o maltrattamenti, ma non si esclude neanche la pista dell'abuso di sostanze. La PM Monica Monego ha aperto un fascicolo e ha già conferito l'incarico per l'esame autoptico che sarà eseguito nelle prossime ore. E dai dati delle ultime settimane, dell'ultima settimana in Sicilia emerge che c'è un aumento dell'indice RT, il rischio più elevato. In termini di nuovi casi registrati ci dice che si trova soprattutto nelle province di Catania, di Messina e di Siracusa. Il comune di Nicolosi nel Catanese domani entra in zona arancione ed è per tale ragione che gli esperti sottolinano l'importanza delle terze dosi. Il comune di Nicolosi da domani sarà in zona arancione, lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della regione nello Musumeci. Le misure restrittive saranno in vigore fino a mercoledì 24 novembre. Nell'ultima settimana è in aumento l'incidenza dei casi Covid in Sicilia e quanto emerge dall'ultimo bollettino settimanale diffuso dall'osservatorio epidemiologico della regione siciliana. Il rialzo dei nuovi casi fa registrare anche un incremento, seppur limitato, delle ospedalizzazioni con ricadute sull'occupazione dei posti letto. L'ospedalizzazione riguarda soggetti non vaccinati, l'81%, mentre resta stabile la letalità. E' necessario sottolineare l'importanza delle terze dosi, a sottolinearlo anche il presidente regionale Simit Antonio Davi. Ritengo che allargare anche, oltre a quello che si sta facendo adesso, operatori sanitari, fragili, gli over 60, anche nella fascia 40-60, consentirà di rielevare l'immunità, anche perché c'è un andamento pericolosissimo, che è quello dell'aumento costante e progressivo giornaliero del numero di contagiati. Noi dobbiamo evitare un nuovo lockdown, ci dobbiamo premunire, soprattutto quando andiamo incontro alle feste natalizie, perché l'andamento non è piacevole. Anche Arturo Montineri, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico San Marco di Catania, ribadisce l'importanza della terza dose anche al di sotto dei 40 anni. Io credo che la terza dose sia auspicabile. Fra l'altro noi ricoveriamo prevalentemente pazienti non vaccinati. È anche vero però che arrivano dei pazienti già vaccinati. Sono quelli che si sono vaccinati gennaio, febbraio. Sarebbe opportuno aprirle anche al di sotto dei 40 anni? Personalmente io ritengo di sì. Se la logica è quella di stimolare il sistema immunitario, riattivarlo e migliorare il livello di protezione, non credo sia un problema correlabile all'età del paziente. Intanto sono tutti negativi i 622 tamponi salivari effettuati nelle scuole Sentinella del Catanese, tre i distretti interessati, Catania, Palagonia e Catagirone. Il prossimo screening interesserà nove scuole dei distretti di Bronte, Adrano e Paternò. Dopo l'appello del direttore regionale dell'Asp 7 di Ragusa, un giorno lì qua anche l'assessore regionale della salute Ruggero Razza ha proposto delle soluzioni circa la carenza del personale medico nei pronto soccorso. Grazia ha chiesto anche all'Asp di Ragusa di intervenire sulla questione del frigorifero per contrarre i vaccini anti-influenzali che è mancante all'ospedale maggiore di Modica. A diversi giorni dall'appello lanciato anche ai nostri microfoni da parte di Angelo Aliquò, direttore generale dell'Asp di Ragusa, in riferimento alla carenza di personale medico nei pronto soccorso arriva una risposta dall'assessore regionale della salute Ruggero Razza che dice un aiuto non è necessario solo per la provincia di Ragusa ma per tutte quelle piccole province siciliane. Anzi, a dire il vero, l'intero sistema nazionale soffre di una carenza di personale medico. Se è vero che anche regioni molto solide dal punto di vista sanitario come la Lombardia e il Veneto in questi giorni hanno lanciato il grido d'allarme per la carenza di medici, di professionalità. Il legislatore nazionale ha un modo per poter intervenire tutto il resto sono grandi palliativi che non consentono di affrontare e risolvere bene questi problemi. E nel riferimento a quanto detto da Aliquò in precedenza ai nostri microfoni ovvero che mancano i medici specializzati nell'emergenza urgenza l'assessore Razza propone di estendere ad altre figure mediche la possibilità di partecipare ai concorsi. Ad oggi c'è un divieto. Chi non ha una specializzazione non può essere impiegato in corsia però per il coronavirus questo divieto è venuto meno. Allora delle due l'una. Se da due anni ci sono medici e professionisti che si sono formati in ospedale e che stanno garantendo i livelli essenziali di assistenza contro la pandemia si estenda anche a loro la possibilità di poter partecipare a tutti i concorsi e metteremo in campo decine di migliaia di medici in tutta Italia che oggi sono forzatamente esclusi dalla possibilità di aiutare all'interno delle corsie d'ospedale. L'assessore Razza rimanda al direttore generale dell'ASPE di Ragusa ritrovare una soluzione per quanto riguarda la problematica del frigo dell'ospedale maggiore di Modica dove non è più possibile contenere il vaccino anti-influenzale in quanto pare che il frigo sia stato spostato a Ragusa per contenere i vaccini anti-Covid. Temo che questo sia un tema che va posto al direttore generale dell'ASPE per verificare anzitutto se le cose stanno in questi termini e poi anche per verificare se magari da parte dei medici di famiglia di quel territorio non si possano creare delle occasioni di convergenza superiori tra l'ASPE e loro. C'è bisogno di tutti, non c'è bisogno di polemiche. Io ogni volta che sento una componente del sistema sanitario fare polemiche contro l'altra penso che questa pandemia rischia di averci insegnato molto poco. Fondi per le aziende danneggiate dal maltempo di giorni scorsi in Sicilia arriveranno dal Governo nazionale così il Ministro alle politiche agricole Stefano Patuanelli è intervenuto oggi a Giarre negli stati generali di Coldirette anticipata anche la novità del bonus verde previsto nella legge di bilancio. Il Ministro per le politiche agricole Stefano Patuanelli oggi a Giarre nell'ambito della Due Giorni sugli stati generali dei florovivaisti italiani organizzati da Coldiretti Sicilia. È stato un momento di confronto e dialogo sulle iniziative che il Governo nazionale sta portando avanti nel settore florovivaistico ma anche e soprattutto di come il Governo centrale sta lavorando per aiutare e fronteggiare le aziende che hanno subito milioni di euro di danni dall'ultimo nubifragio che ha colpito la Sicilia orientale e da ieri quella occidentale. Servono opere di protezione idrogeologica, servono investimenti serve accelerare sulla realizzazione di opere che sono già previste e poi ovviamente in agricoltura va cambiata radicalmente la mentalità rispetto alla gestione del rischio. Noi abbiamo messo in legge di bilancio la costituzione del primo fondo di mutualizzazione un unicum in Europa, i paesi ci stanno scrivendo in queste ore per sapere cosa stiamo facendo e come lo stiamo facendo molte risorse ma soprattutto un accompagnamento verso l'assicurazione dei produttori che ancora la vedono come un elemento lontano, poco favorevole perché molto costoso. Con il fondo di mutualizzazione andiamo incontro a tutte queste esigenze aumentiamo il cofinanziamento, ci mettiamo quasi 180 milioni di euro l'anno tra le varie poste di bilancio, oltre ovviamente al prelievo del 3% sul primo pilastro che è stata una delle proposte che abbiamo fatto noi come governo italiano nella nuova PAC. Nella nuova legge di bilancio, ha detto il Ministro, è stato rinnovato il cosiddetto bonus verde che quest'anno prevede delle novità. Ma con una grande novità, non più per uno solo anno ma con una visione di tre anni di rinnovo di una misura che ha dato grande impulso al settore. Questo è il modo in cui il governo cerca di star vicino a chi fa florovivaismo, a chi produce verde. Aperta regolarmente in Sicilia la stagione venatoria, salvo alcune eccezioni. È stata sospesa la caccia solo relativamente alla tortola selvatica e alla beccaccia. Il WWF, che denuncia come la regione siciliana, non recepisca la sentenza del Tar. Nessuno stop alla caccia in Sicilia. L'assessore regionale all'agricoltura Tony Scilla ha firmato il decreto di modifica al calendario venatorio 2021-2022 che in attuazione dell'ordinanza del Tar del 3 novembre, riporta la nota della regione, sospende la caccia solo relativamente alla tortola selvatica e alla beccaccia. Il decreto regionale vieta la caccia nelle aree interessate da incendi e in tutte le aree percorse dal fuoco, incluso una fascia di rispetto di 150 metri. Ma per il WWF Sicilia si tratta di un provvedimento illegittimo. A spiegarlo Ennio Bonfanti, responsabile fauna WWF Sicilia. Ora, ribadire che la caccia è vietata nei luoghi bruciati è una ovvietà. Già lo prevede la legge, non c'era bisogno che l'assessore emanasse un nuovo decreto. Il Tar invece aveva detto, visto che la Sicilia è stata investita da questa ondata di incendi, occorrono misure di sospensione della caccia non solo nei luoghi bruciati, ma anche in tutti i territori vicini dove la fauna si è spostata per scappare alle fiamme e si è rifugiata nei terreni non bruciati. L'assessore emette questo provvedimento che è assolutamente illegittimo. Per le associazioni ambientaliste la battaglia continua. Chiaramente la battaglia per la tutela della fauna da parte del WWF e delle altre associazioni ambientaliste continuerà. Di nuovo saremo costretti a ricorrere alla cassa d'appollo ai tribunali per affermare questi principi minimi di buonsenso. Ai cacciatori siciliani basta informarsi sulle aree incendiate consultando la mappa di geolocalizzazione che facilita l'individuazione delle zone, riporta la nota dell'assessore Scilla. Ma per Bonfanti manca una perimetrazione dei territori. Sul campo, nel terreno è impossibile riuscire a distinguere i confini delle zone bruciate da quelle non bruciate. E' questo che la regione siciliana doveva fare, che l'assessore Scilla doveva fare. Una perimetrazione specifica di tutti i territori percorsi dal fuoco, non soltanto quella dei boschi per cui c'è il catasto incendi che viene aggiornato dai comuni. Sarà impossibile sanzionare chi eventualmente non rispetta questo divieto proprio perché in campagna non sono delimitati i confini di queste aree. Il 12 novembre 2003 ricorre l'anniversario dal primo attentato a Nasseria dove morirono 28 militari di cui 18 italiani impegnati nella missione Operazione Antica Babilonia. Oggi diverse le iniziative per ricordare queste vittime. Sono passati 18 anni dalla strage di Nasseria che provocò 28 morti di cui 19 italiani. Una serie di attacchi dal 2003 al 2006 durante la guerra di Iraq nella città di Nasseria contro le forze armate italiane che partecipavano alla missione militare Operazione Antica Babilonia. Era il 12 novembre 2003 quando ci fu il primo grave attentato. Un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti all'ingresso della base italiana dei carabinieri provocando successivamente l'esplosione del deposito, munizione della base maestrale e pertanto la morte di diverse persone tra carabinieri civili e militari. Evento che ancora oggi viene celebrato con una serie di iniziative mentre ieri il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha deposto una corona di alloro sotto la lapide che a Palazzo d'Orlean ricorda le vittime siciliane Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Emanuele Ferraro, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Orasio Maiorana e Alfio Ragazzi. Oggi ricorre anche la tredicesima giornata del ricordo delle vittime militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Ricorrenze celebrate questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, nel piazzale antistante alla sede del Comando e nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid. Si è svolta la commemorazione dei caduti della strage di Nasseria e la tredicesima giornata del ricordo delle vittime militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Durante la cerimonia è stata deposta una corona dall'oro e il parroco della parrocchia del Beato Clemente, Don Giuseppe Ramondazzo, ha impartito la solenne benedizione. È una data fortemente simbolica per tutta l'Italia, ma in particolare per noi carabinieri, che qui a Ragusa, nella piazza intitolata ai caduti di Nasseria, a tutti i caduti di Nasseria, dove c'erano anche, oltre ai nostri carabinieri, anche i militari dell'esercito e anche i civili, dobbiamo assolutamente tributare un ricordo in loro onore. È una giornata, è una solennità civile nazionale, prevista per legge, non serve a noi la legge per ricordare i nostri caduti, ma siamo contenti che una ricorrenza del genere sia ufficializzata in questo modo. Un originale omaggio alla memoria storica del territorio modicano attraverso una serie di interviste, di ambientazioni suggestive e particolari. Il documentario Trazeri, il regista Giovanni Caccamo. Oggi è la presentazione al Teatro Garibaldi di Modica. Il documentario è stato selezionato in vari festival internazionali. Vediamo allora uno stralcio dell'intervista realizzata al modicano Giovanni Caccamo. È una cosa molto emozionante. Considerate che questo documentario è stato frutto di quasi due anni di lavoro, di sortite a Modica con la troupe. Ci tengo a sottolineare persone pazzesche che mi hanno aiutato a partire da Gianluca Tela e tutte le sue persone, perché io dicevo, sto scendendo a Modica, cercavamo le persone, andavamo negli ospizi a casa delle persone. È stata una fatica, c'è voluta una determinazione e una volontà di farlo importante, però le motivazioni erano molto profonde. Da cosa nasce l'ispirazione per questo documentario? Beh, fondamentalmente la prima cosa è stata la pandemia che mi ha spinto a riflettere perché vedevo che molte persone, diciamo anziane, cominciavano a sparire. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere, quindi ci siamo messi alla ricerca di persone di una certa età. Nel documentario, forse la più giovane ci avrà 89 anni, ma abbiamo persone di 106 anni, 104 anni, 100 anni, alcune purtroppo non ci sono più. E quindi andare da loro con molta delicatezza, farsi raccontare in modo libero delle cose e piano piano questa cosa doveva essere soltanto una testimonianza e cominciare a crescere da sola, a lievitare, al punto che si sono formati dei capitoli da soli. Piano piano venivano fuori che erano l'amore, la fatica. E quindi poi, una volta raccolto tanto materiale, il primo montaggio, il primo edit è stato fatto sulla carta per cercare di mettere insieme tutti gli argomenti. Per unire tutte queste dichiarazioni, questi racconti, avevo bisogno di immagini. Tra le varie cose ho detto, vabbè, chiamiamo dei ragazzi, anche loro pazzeschi volontari, dei musicisti, che ho fatto esibire in posti assurdi. Quindi questi ragazzi, a parte che venivano alle 6 del mattino, perché facevano un caldo mostruoso, eccoli, in mezzo alle mucche, mosche, piuttosto che vicino a un alveare, sono stati bravissimi e il pezzo musicale è stato composto appositamente da un compositore che si chiama Giuliano Cantini, ed è stato proprio pensato per questa cosa. Adesso una bella storia che arriva da Modica, quella di Alessio Viola, 29 anni, Modicano che si è laureato in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, con 110 e anche la Lodde, in un percorso a volte difficoltoso a causa della sua sordità. Vicepresidente di Fiad, Alessio, ha raccontato di avere abbattuto il muro di pregiudizi. Mai avrei pensato di raggiungere un tale traguardo con una proclamazione da una commissione che mi ha praticamente smantellato un muro di pregiudizi, e giudicandomi per la persona che sono. E' Alessio Viola, Modicano di 29 anni, consigliere nazionale e vicepresidente dell'Associazione Fiadda di Modica, a mostrare, fiero e orgoglioso in un post su Facebook, l'obiettivo raggiunto, la laurea in 110 e Lodde in fisioterapia alla Sapienza di Roma, con una tesi dal titolo Valutazione e trattamento della cervicale alterazione posturale in pazienti con ipoacusia neurosensoriale. Alessio, che quattro anni fa è stato sottoposto ad impianto cocleare per un'ipoacusia profonda, lancia un messaggio dopo le difficoltà incontrate anni prima in un altro percorso di studi, quello in infermieristica, dove, dice, ho incontrato dei pregiudizi sulla possibilità di comunicare all'interno dei reparti con i pazienti e i professionisti. La sordità, sottolinea Alessio, non è un ostacolo. Le persone sorde, ma qualsiasi persona anche con una disabilità, può superare qualsiasi ostacolo. Gli ostacoli e le discriminazioni ci saranno sempre e ci sono, purtroppo, però se si ha la voglia, la consapevolezza della propria disabilità, si può affrontare tutto. Ce l'ho fatta io e quindi anche un messaggio agli altri di lottare per i propri sogni, soprattutto, di non arrendersi di fondere le prime difficoltà. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Ancora ben trovati in studio per la seconda parte di MTG. Vi parliamo del progetto Natura, che sposa il ragusano DOP con l'agricoltura bio, i prodotti lattiero, caseari bio, la mission è promuovere questi prodotti di eccellenza, mangiando sano e coinvolgendo anche le nuove generazioni, oltre che i consumatori. Bene, il progetto Fattoria, che è stato così mandato avanti per tutto l'anno, grazie anche a dei fondi regionali, è stato concluso e i risultati sono stati presentati proprio questa mattina nell'ambito di un convegno. La nuova frontiera del benessere a Tevola parla a ragusano con il ragusano DOP e i latticini bio, i prodotti d'eccellenza che derivano dai pascoli che vivono e si cibono nelle fertile e genuine terre iblè. Stamattina è stato presentato il progetto di Fattoria per la valorizzazione del ragusano DOP e dei prodotti biologici lattiero caseari, reso possibile anche grazie ai contributi della sottomisura 3.2 PSR Sicilia 2014-2020, sostegno per le attività di formazione e promozione svolta da associazioni di produttori del mercato interno. La mission è rilanciare la commercializzazione del ragusano e dei prodotti bio e far conoscere alle nuove generazioni la forza produttiva del territorio ibleo ed educarle al mangiare sano. Il convegno alla presenza delle istituzioni politiche del mondo lattiero caseario si è tenuto nella sede della società cooperativa al progetto Natura Ragusa. Per la prima volta, sia per il ragusano DOP ma anche per i prodotti biologici iblei, è stato fatto un progetto con rilevanti risorse investite ma soprattutto è stato fatto un progetto rivolto al consumatore finale. Nei punti vendita abbiamo fatto assaggiare e abbiamo avuto questa interazione anche con più di 300.000 consumatori. Riteniamo che sia un progetto importante per far sì che questo prodotto, che sia il ragusano DOP ma anche i prodotti caseari biologici iblei vengono promozionati e vengono apprezzati dal consumatore perché il nostro obiettivo è sì far in modo che i nostri allevatori vengono a percepire una remunerazione maggiore per il latte ma soprattutto quello di far mangiare prodotti di qualità ai nostri consumatori. Il nostro progetto è finalizzato alla divulgazione, alla conoscenza, a portare a conoscenza del consumatore che esistono questi prodotti, che esiste la filiera dei prodotti lattieri caseari di qualità del nostro territorio e quindi la vogliamo fare conoscere, vogliamo crescere con il mercato per dare valore alla nostra produzione. Qual è il punto di forza del ragusano DOP? Perché è anche importante farlo conoscere alle nuove generazioni. Il punto di forza del ragusano DOP è la qualità che ha, intrinseca del prodotto, che si collega col territorio, con gli ambienti, è un prodotto che possiamo dire di basso impatto ambientale, gli animali al pascolo, la produzione artigianale, l'utilizzo di un latte di altissima qualità, un'essenza fatto con i pascoli ricchi di essenze del nostro territorio. È molto importante far capire ai giovani nelle scuole, se è possibile, quanto è importante produrre in modo naturale e a differenza dell'industria. Cosa significa mangiare un formaggio biologico? Cioè qualcosa cambia rispetto agli altri formaggi che solitamente siamo abituati a mangiare? Allora, posso dire in due parole che mangiare biologico significa mangiare sano, mangiare quello che mangiavano i nostri nonni. Fare bio significa non usare concimi chimici, diserbanti e tanto altro. È Chiara Facello, la neo garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presentata questa mattina su iniziativa del Chivanis di Modica. Anche Modica da oggi ha il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza comunale, così come gli altri comuni italiani. Si tratta di una figura considerata in tutto il mondo uno degli strumenti più importanti per la proiezione dei diritti e degli interessi dei minori. Un'iniziativa del Chivanis di Stretto Italia San Marino che grazie alla collaborazione dei club italiani si sta allergando a macchie di leopardo. E così anche a Modica questa mattina è stata presentata la garante. Si tratta di Chiara Facello, insieme a lei anche il presidente del Chivanis di Modica, Antonio Davi. Il compito di questa garante è quello di fare rispettare i diritti dell'infanzia, di visionare un pochettino tutte quelle sono le leggi e le direttive e prendere atto dell'eventuale segnalazione da parte dei bambini. Dunque la città della Contea da oggi ha il suo garante che servirà a garantire e promuovere i diritti del fanciullo enunciati nella convenzione stipulata a New York il 20 novembre del 1989 ratificata in Italia con la legge 176 del 91. Per me è molto importante iniziare questo percorso e uno degli obiettivi che ovviamente ci porremmo sarà quello di seguire quello che il garante sta facendo anche a livello nazionale sul tema dei diritti. In particolare ci troviamo in un momento storico importantissimo perché non solo abbiamo un documento fondamentale come è quello della Convenzione dell'ONU ma abbiamo un altro documento importantissimo che è la Convenzione dei diritti dell'Unione Europea. L'amministrazione ci è stata subito vicina in questa scelta, l'iter è stato avviato velocemente in questo scorso anno e il dottore Davio è raggiunto a conclusione della nomina che poco anzi è stato detto è la dottoressa Chiara Facello con la quale lavoreremo in completa sinergia. Presente alla cerimonia anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ignazio Abate. Grazie a Chivanese e a tutti i suoi componenti è un collupo grande a Chiara Facello, a dottoressa Facello che sappiamo è una persona preparatissima che saprà bene individuare anche dalla sua esperienza anche personale di poter dare una mano veramente di crescita a tutti e di supporto anche alle istituzioni scolastiche e alle famiglie. Davvero tutto con questo servizio. Grazie per la contesa attenzione e a voi tutti ancora buona serata. Grazie a tutti.